Capitolo 20 Iride accetta Paypal Il pomeriggio successivo restituimmo il caduceo a Iride. Ero felice di toglierlo dalla mia camera perché tendeva a scintillare e sparare arcobaleni in giro per la casa ogni volta che pensavo a un messaggio per qualcuno o che passava a un furgoncino delle poste. Quella mattina mia madre aveva ricevuto una speciale consegna di libri dal suo editore e il caduceo per poco non aveva minato il fattorino. Immagino che lo considerasse della concorrenza. In ogni caso dopo la scuola incontrai Annabeth. Grover non c'era, era in centro a fare il servizio fotografico con Blanche. A quanto pareva lo avrebbe ritratto con un chilt di foglie di palma essiccate appoggiato a un tronco bruciato e circondato da insetti morti. Grover aveva intenzione di incorniciare la foto e regalarla a Juniper per la sua fioritura a gennaio. Non capisco neanche una parola di quello che ho appena detto, ma nessuno ha domandato il mio parere. Trovare Iride fu la parte più semplice. Bastò chiedere al caduceo di portarmi da lei. Avevo paura che trasformasse me e Annabeth in un arcobaleno e ci lanciasse nel Wisconsin. A quel punto avremmo tossito in venti colori diversi per tutta la sera e, per di più, saremmo stati nel Wisconsin. Invece il caduceo puntò verso nord e cominciò a tirarmi lungo la prima avenue come una bacchetta da rabdomante. Ci condusse nella zona bassa di Harlem e lì trovammo la dea, che vendeva cristalli tra file di banchi di ortolani. Mi domandai se il tipo con i cetrioli e la signora con le Irlande di peperoncini essiccati sapessero che la persona in mezzo a loro era in realtà l'immortale dea dell'arcobaleno. Probabilmente no, ma dubitai che ne sarebbero rimasti sorpresi. Se sei un ambulante a Manhattan, vedi praticamente di tutto. Santo cielo! Non appena ci notò, Iride rimase senza fiato. Prese il caduceo e lo ispezionò con cura, come se fosse una lama da samurai appena ritirata da un negozio di riparazioni di spade. «Mercedes, hai un aspetto meraviglioso!» «Hai chiamato il tuo caduceo Mercedes?» chiese Annabeth e subito aggiunse «è un nome bellissimo!» «Sembra felicissima!» esclamò Iride entusiasta mentre lacrime color arcobaleno le scendevano dagli occhi. «Mi dispiace per tutti i guai che ti ho procurato!» «Che stupido! Stavo per accettare le sue scuse quando mi resi conto che parlava con Mercedes!» «Oh, tesoro mio!» Stringendo con delicatezza il caduceo, la dea continuò a piangere. «Avrei dovuto farti pulire anni fa! Non ti userò più come espositore!» «E l'impresa è andata bene», dissi senza che nessuno me lo avesse chiesto. «Crewelty free al cento per cento!» «Che cosa?» Iride si agitò. «Oh sì, cruelty free, certo, bene!» Ebbi la sensazione che avrei potuto distruggere ettari di serpenti e Iride non avrebbe mai notato la differenza. D'altro canto, ero felice che non fosse andata così, perché i serpenti cornuti erano carini, con quell'aria in un certo qual modo micidiale della serie «Ti sbrano la faccia!» «Quindi ricomincerai a inviare personalmente alcuni messaggi Iride?» chiese Annabeth mantenendo un tono allegro. «Eh?» Iride distorse lo sguardo dal suo splendido caduceo. «No, no, quell'epoca è finita, anche se è meraviglioso vedere Mercedes di nuovo così in forma. Apprezzo il vostro aiuto!» Mentre sistemava i cristalli sul banco e copriva lentamente il bastone, iniziò a canticchiare tra sé. Lanciai un'occhiata alla mia ragazza, che mi fece cenno di avere pazienza. «Hai avuto tempo di chiedere informazioni in giro?» domandò Annabeth alla dea. Iride parve sbigottita che fossimo ancora lì. «Chiedere informazioni?» mi sentì sprofondare il cuore. «Se Iride non aveva rispettato la sua parte del patto, noi eravamo andati al fiume Ilisso per niente, se non per dare inizio a un culto religioso tra i rettili di Yonkers adoratori di Persi. «Su Ganimede?» le ricordai. «Sulla coppa andata perduta?» Iride sbatte le palpebre. «Sì, certo. Ho chiesto in giro. Ma siete sicuri di non preferire un cristallo come ricompensa? O magari una confezione di sali da bagno di salvia purificante?» Continuava ad accatastare oggetti sopra Mercedes. Busciacche, perline, sacchettini di pietre, come se volesse nascondere il caduceo il più velocemente possibile. Perché era così nervosa? «Avere anche solo le informazioni sarebbe fantastico», insistette Annabeth. «Hai avuto le informazioni, vero?» Iride sospirò. «E che voi sembrate dei ragazzi così simpatici. Non vorrei proprio...» lasciò svanire il pensiero nella terra dei pensieri formati a metà sulle cose che potrebbero uccidere Percy Jackson. Trascorrevo tantissimo tempo in quella terra. «Hai scoperto dov'è la coppa?» tirai a indovinare. «Ho un'idea piuttosto precisa al riguardo». Nel sentire il suo tono truce mi domandai se non avrei fatto meglio ad accettare i sali da bagno. Poi guardai Annabeth. Mi tornò in mente che c'era in gioco la possibilità di andare al college con lei, di stare con lei. Era una cosa non negoziabile, a prescindere da quanto fosse impegnativa l'impresa o purificante la salvia. «Raccontaci tutto», dissi. Con la punta delle dita Iride tirò il braccialetto di macramè che aveva al polso. «Ho ristretto la vostra ricerca al Greenwich Village». Annabeth corrugò la fronte. «È una zona piuttosto grande». «Lui lo troverete lì», insistette Iride. «Se in effetti ho ragione sull'identità del ladro». «Lui?» domandai. «Aspettai che la dea aggiungesse qualcosa. Non è mai un buon segno quando il tuo informatore evita di fare il nome del super cattivo, soprattutto quando l'informatore è una divinità. Chi avrebbe potuto mettere tanto in agitazione Iride?» «Avrei dovuto immaginarlo», borbottò tra sé. Prese un mazzetto di bastoncini di incenso e lo sventolò, forse nella speranza di pulire l'aria, cosa che però non accadde. «Di sicuro detesta Ganimede e il calice». «Ma...» scosse la testa. «Spero di sbagliarmi, probabilmente però non mi sbaglio». «Chi è?» domandò Annabeth. «Ci serve un nome?» Aveva più coraggio di me. Io mi ero già rassegnato all'idea di perlustrare l'intero Greenwich Village alla ricerca di tizi a caso che si portavano dietro dei calici. Iride si guardò alle spalle, poi si chinò verso di noi con aria complice. «Si farà chiamare... Gary». Non osai ridere, ma non potei fare a meno di pensare alla lumaca di SpongeBob, il cartone animato. Di solito le cose che hanno l'aria più buffa sono quelle che ti uccidono più rapidamente. Ridi, poi vieni ammazzato nel modo più stupido possibile. «Gary», ripete Annabeth. «Sì», confermò Iride. «Non so come si è riuscito a organizzare il furto o che cosa speri di ottenere, ma queste informazioni arrivano da un'affidabile ninfa delle nuvole. Quindi andiamo al Greenwich Village e chiediamo in giro di Gary», sintetizzai. Iride inclinò la testa. «Immagino che potreste farlo. Sarebbe più veloce però usare il nettare». Prese una fialetta dallo scaffale di oli essenziali, poi la sollevò in alto come se stesse recitando in uno spot televisivo. Avevo già visto il nettare. Ne bevevo una bella dose ogni volta che dovevo guarire da tagli, contusioni, ustioni e altre ferite all'ordine del giorno nella vita di un semidio. Ma quella fialetta sembrava particolarmente brillante e dorata, come se contenesse la luce del sole sospesa nel miele. Annabeth si sporse in avanti. «È per caso concentrato puro al cento per cento», rispose Iride con un sorrisetto compiaciuto. «Raccolto dalla rugiada nei boschi del Monte Olimpo, all'alba del primo giorno di primavera, senza nessun additivo o conservante. Non bevetelo! Il nettare non diluito vi incenerirebbe in un baleno, semidei». Mi scostai dall'allegro e micidiale succo dorato. «Allora cosa ce ne facciamo?» Iride capovolse la fialetta, facendo brillare ancora di più il contenuto. «Il calice degli dèi serve a miscelare il nettare. Tutto il nettare vi è attratto spontaneamente. Rilasciate una goccia o due di questo liquido nell'aria del Greenwich Village e, se il calice è da qualche parte lì vicino, dovreste essere in grado di seguire le goccioline fino a Gary». «E' straordinario! Grazie! Ci sarà di grande aiuto!» Ammisi. Feci per prendere la fialetta, ma Iride ritrasse la mano. «Ah, ah!» mi rimproverò. «A un prezzo!» Soffocai un gemito. «Mi domandai quale oggetto magico avremmo dovuto ripulire adesso, o quali speciali cristalli avremmo dovuto recuperare dalle profondità degli inferi. Quanto costa?» chiese Annabeth. Iride ci lanciò la sua migliore occhiata da abile commerciante. «Cinque dollari». «Tutto qui?» domandai io. Annabeth mi diede una gomitata. «Volevo dire cinque dollari?» cercai di sembrare indignato. «In contanti?» «Accetto anche un pagamento con Paypal», propose la dea. Mi frugai in tasca, trovai la mia penna spada vortice, una graffetta e uno scontrino del limbo Joyce. Annabeth prese il borsellino e tirò fuori una banconota da cinque dollari, perché ovviamente, insieme a tutti gli altri strani e arcaici strumenti obsoleti di cui avrebbe potuto avere bisogno, si portava dietro i contanti. «Affare fatto», disse. E così fu concluso lo scambio. Annabeth fece scivolare la fialetta dorata nella borsa. «Nient'altro che dovremmo sapere?» chiesi. «Tipo, chi è Gary?» «No», rispose Iride. «È meglio per voi non saperlo, altrimenti...» scosse la testa, poi fece scivolare la banconota da cinque dollari nel barsupio ricamato. Ebbi la sensazione che la dea volesse aggiungere qualcos'altro della serie «Mi ha fatto piacere a vedervi, buona fortuna!» Invece ci rivolse soltanto un sorriso sconsolato, dopodiché si mise a sistemare la collezione di scialli tinti a nodi. «Suppongo che, altrimenti, fosse l'unica cosa da dire un attimo prima di spedire due semidei in una missione pericolosa. In quel modo tutte le questioni fondamentali erano sistemate. Che il successo vi arrida, altrimenti...» Beh, tirate voi le conclusioni. Capitolo 21. Offro consulenza sulle relazioni di coppia. No, sul serio. Perché ridete? Mai dare a un satiro una foto opportunity. Il pomeriggio successivo, Grover si presentò alla mia gara di nuoto con indosso berretto nero, occhiali da sole e camicione bianco. Sembrava fosse pronto a dipingere acquerelli per le strade di Parigi o qual...